Le tute blu di Vicenza abbracciano idealmente la famiglia di Marco Camposilvano, operaio morto folgorato su un traliccio a Marano Vicentino due giorni fa. Lo fanno a modo loro, con i loro strumenti, un'ora di sciopero alla fine di ogni turno, fino all'ultimo alle 22. Si fermano, come molte altre volte, per dire, anzi, urlare, che non si può continuare a morire di lavoro. I dati continuano a peggiorare. Da gennaio al primo ottobre di quest'anno, 5% in più. Sono già 61 le morti bianche in Veneto, regioni in testa alla macabra classifica, esclusi quelle in itinere, quindi il dato è sottostimato. I sindacati, Fionfim, Cisle e Wilm, chiedono che si applichino almeno le indicazioni contenuti sul contratto di lavoro firmato a novembre del 2016. Più investimenti, sanzioni agli imprenditori che non li mettono a bilancio, condivisioni delle banche dati, anche sui mancati incidenti da analizzare. La prima cosa da cui cominciare per me è la costituzione degli osservatori territoriali e le ispezioni dentro i luoghi di lavoro. E poi la formazione, tipo dei break formativi più veloci, mirati, reparto per reparto, luogo di lavoro per luogo di lavoro. A luglio 2018 è stato varato un piano strategico per la sicurezza dalla Regione. 9 milioni e mezzo di euro fino al 2020 e 30 nuovi tecnici spisa al Promessi. Servono ispettori che vanno ad aiutare le aziende a fare la formazione, a fare analizzare i mancati infortuni. Nonostante le promesse li avete visti questi ispettori? C'era una disponibilità a farlo, dopodiché non è ancora così evidente nelle fabbriche.